Amalgamate il sublime e l'incantevole, avvolgetelo in uno strato di rapimento e completate con un pizzico di fascino. Il tartufo antica gelateria del corso, la poesia del gelato. C'è sempre qualcuno che ti dice che le merendine per la colazione sono tutte uguali? Più o meno. Certo, basta rinunciare non a uno, non a due, ma a ben cinque cereali, a un pane lievitato a lungo, a una colazione completa. Forse potrei, ma non avrei Kinder Colazione Più. L'energia dei suoi cinque cereali e quel gusto inconfondibile di cacao per partire bene al mattino. No, io scelgo Kinder Colazione Più. Con la qualità non si scherza. Sugo incrostato, lasagne bruciate. Ogni volta devo strofinare, strofinare, strofinare. Adesso basta, dimentica la fatica. Finalmente c'è il nuovo Nelson Spray disincrostante. Spruzza, lascia agire e risciacqua con una passata di spugna. Straordinario, da oggi spruzza e non strofinare più. Dall'esperienza Nelson, nuovo Nelson Spray disincrostante. Qualità Enkel. Hello, boy! Ci facciamo un brunch, un lunch, un coffee break. Ma che stai a dire? È l'idioma. Ah, è l'idioma. Se ne incontrano dei idiomi nella vita. Coffee! O te ci metti pure te? Kimbo! Metti giù le mani. A me mi like. A te te like, ma a me mi piace. Su, corra. Oh, è più forte di me. Io nella vita sono sempre in ritardo. Valentino, corri! Però alla fine arrivo. E alla fine ho scelto Fastweb. Per me è il massimo, eh. Guardo tutti i programmi che voglio quando mi pare. E finalmente vedo fin dall'inizio. Fastweb. Pensa se non ci avessi provato. Per noi emiliani le lasagne sono sacre, come gli amici. È a questo che penso quando preparo la sfoglia delle lasagne barilla. Per farla ruvida e porosa ci metto dentro tutto quello che so. Immagino la faccia dei miei amici quando le vedono arrivare a tavola. pensare a chi voglio bene. Per me è un ingrediente. Questa settimana su Di Più. La dieta per perdere i chili superflui. Di Più. La dieta con le ricette per ritrovare il peso forma. Di Più. In regalo i poster di Pobia e di Francesco Arca. Di Più. Settimanale Di Più. Diretto da Sandro Maier. Solo un euro. Cairo editore. Ed ecco il re da piccolino. Ma come fa a diventare così grande? Con il latte. Ma solo latte. Eh sì. Non sa quello che si perde. Kinder cioccolato. Il nutrimento del latte e il buono del cioccolato. Ti piace. Kinder cioccolato. Il cioccolato che aiuta a crescere. Usa il ferro da stiro come vuoi ma non per stirare le tende. Prova nuovo Meritor Avviva Tende. L'addetivo per tende bianche e colorate che le rende brillanti e permette di evitarne la stiratura. Meritor Avviva tende. Tira senza stirare. Ho visto una cosa stranissima. Il funerale con un uomo solo. Luca Zingaretti è il commissario Montalvano. Di solito un morto solo c'è? Che fai lo spiritoso? Un uomo solo dietro a ferito. Due oscuri delitti il dilemma. I connotati di quest'uomo non mi convincono. Una vecchia storia d'amore. L'inesplicabile mistero. È stato l'unico amore della mia vita. Error covennesi? Un errore di gioventù. Di Andrea Camilleri. Diretto da Alberto Sironi. Un affascinante capolavoro. Ossia mi credi? Mi credo. Se fossi è uomo, capisci. Il gioco delle tre carte. Lunedì alle 21. Rai 1. Portali! Ma cosa fai? È un bicicletta, dottore, la cosa più bella del mondo! Come ha detto si chiama, signorina? Adriana. Vivere senza malinconia. È vero che noi ebrei non torneremo più. Voi siete accusati di cospirazione. Che cospirazione è tra di me? Sono uno sportivo! Giulio! Via, via sui supertello! Madonne, madonnine, non me lo levare. Dovrete correre lì al mente. Se lui ci sta, io ci sto. Guardaci che mi do c'è a fare a me. Dai, dai! Sei un acquaiolo, coppi! Adesso che comincia il giro, guarda bene davanti a te. Perché quel puntino rosa lontano, lontano che sale. È la mia schiena. Due grandi confronti televisivi tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi in prima serata su Rai 1. Martedì 14 marzo conduce Clemente Semimun, lunedì 3 aprile, conduce Bruno Vespa.